Benvenuti nell'anticipazione di Terramara, il tanto atteso evento televisivo che terrà tutti con il fiato sospeso dal 28 agosto al 1 settembre 2023. La puntata inaugurale di questa emozionante settimana andrà in onda lunedì 28 agosto, e sarà carica di tensione. In questa puntata, Mujaygan farà una scoperta scioccante grazie a Chetín. Ilmaz ha dei seri rancori nei confronti di Fikret e sta per compiere un gesto estremo, minacciando la vita di quest'ultimo. Senza esitazione, Mujaygan si precipiterà sul luogo indicato da Chetín per fare una rivelazione sconvolgente. La sua presunta gravidanza da Ilmaz è una menzogna. Quando si troverà di fronte a Ilmaz e Fikret, pronti a spararsi a vicenda, svelerà che la sua gravidanza è una finzione. Il nipote di Fekeli non ha alcuna responsabilità in questa faccenda. In un momento di confessione, Mujaygan ammetterà di aver falsificato il test di gravidanza, utilizzando le urine di una sua paziente, tutto questo dopo aver saputo che suo marito era disposto a tutto per scappare con la sua amante, Zuleya. La reazione di Ilmaz sarà furiosa, costringendo Mujaygan a confrontarsi prima con Zuleya, confessandole la verità sul suo stato fittizio. Successivamente, Ilmaz le ordinerà di abbandonare Kukurova e tornare a Istanbul, portando con sé la malvagia zia Beis. Per la dottoressa, queste parole saranno dolorose da accettare, nonostante comprenda di aver deluso suo marito. Le sarà difficile immaginare di lasciare il figlio che aspetta. Nella puntata di martedì 29 agosto di Terra Amara, Fekeli, dopo aver assistito alla scioccante rivelazione di Mujaygan, rinnegherà la dottoressa come figlioccia per aver mentito a tutti loro. Tuttavia, Fekeli non sarà d'accordo con Ilmaz sulla soluzione proposta di allontanare Mujaygan e Beis da Kukurova, poiché crede che sua nipote debba rimanere vicino a suo figlio. Fekeli prenderà una sorprendente decisione. Inviterà sia Mujaygan che Beis a rimanere in una delle sue piccole case fino a quando le acque si saranno calmate. In questo periodo, dovranno fare attenzione a non commettere più errori, poiché la fiducia di Fekeli nei loro confronti sarà molto ridotta. Non potranno più permettersi di sbagliare. Con questa mossa, Fekeli spera che Ilmaz possa riflettere e concedere a Mujaygan di restare accanto a suo figlio, senza forzare ulteriormente la situazione per ottenere il divorzio. Nel frattempo, Demir rimarrà sconcertato dal fatto che Ilmaz abbia sentito il bisogno di recarsi da Zuleyha per rivelarle la verità sulla non gravidanza di sua moglie. In una sera successiva, Demir non troverà più Zuleyha a casa. Così sfonderà la porta della casa che aveva dato a Sermin, convinto di trovare sua moglie con Ilmaz. Tuttavia, rimarrà sorpreso nel constatare che Zuleyha non è presente con Ilmaz, ma invece troverà Gulten e Chetín. Nell'episodio di Terramara in onda mercoledì 30 agosto, Demir tornerà a casa arrabbiato e rimprovererà Zuleyha per la sua improvvisa scomparsa. Lei, seguendo i consigli di Sevda, troverà il coraggio di confessare a suo marito di essere stata effettivamente con Ilmaz e che non ha mai smesso di amarlo. Demir, pur arrabbiato, ammetterà di essere stato preoccupato per la sua scomparsa, ma in quel momento capirà di aver perso per sempre sua moglie. Nel frattempo, Fekeli chiederà a un pittore di dipingere un ritratto di Ankar nella stanza dove avrebbero dovuto vivere dopo il matrimonio. Mujeygan, nel frattempo, soffrirà per la lontananza dal suo piccolo Kerem e supplicherà Zuleyha di intercedere con Ilmaz per ottenere la possibilità di passare del tempo con suo figlio. Zuleyha ricorderà il dolore che ha provato quando è stata allontanata da Leila e Adnan e acconsentirà al desiderio di Mujeygan di trascorrere del tempo con suo figlio. Tuttavia, le cose non si svilupperanno come previsto. Nell'episodio di giovedì 31 agosto, Mujeygan, vedendo Zuleyha che la sta inseguendo, si getterà improvvisamente in un fiume cercando di attraversarlo con Kerem nella cesta. Tuttavia, la cesta le sfuggirà di mano e Kerem rischierà di annegare. Zuleyha, senza pensarci due volte, si tufferà nell'acqua e salverà sia il bambino che Mujeygan. Sarà sconvolta dal gesto della dottoressa, che ha messo a rischio la vita di suo figlio. Ilmaz esploderà in una furia incontenibile, accusando Mujeygan di aver manipolato Zuleyha nel tentativo di rapire il bambino. In risposta, Ilmaz inizierà a preoccuparsi della potenziale pericolosità della dottoressa e la inviterà a tornare a vivere con lui, sperando anche di poter finalmente ottenere il divorzio da lei. Nel frattempo, Fekeli deciderà di accogliere nuovamente Weiss nella tenuta, ma le farà capire che dovrà pagarne le conseguenze se dovesse intromettersi nuovamente nelle questioni di famiglia. Ha infatti compreso che il suo unico interesse sono i soldi, quindi proporrà alla zia di tornare ad Istanbul e ricevere un generoso mantenimento mensile da parte sua, cercando così di evitare i suoi loschipiani per ottenere denaro in modo illegale. A chiudere la settimana di Terra Amara, nella puntata del venerdì 1 settembre, Saniai sarà sempre più convinta che Ghaffur le stia nascondendo qualcosa, ma quest'ultimo continuerà a mantenere il silenzio, cercando nel contempo un modo per sfuggire alle sue responsabilità riguardo all'omicidio accidentale di Atip. Nel frattempo, Rashid comprerà un anello di fidanzamento per Fadik, ma la nonna ne entrerà in possesso e si convincerà che sia un regalo da parte di suo marito, anche se quest'ultimo è deceduto anni prima. Rashid proverà a riprendersi l'anello dalla nonna, ma questa lo accuserà di furto, portando Rashid a essere licenziato. Nel frattempo, Fikret scoprirà che Ilmaz ha trasferito tutti i suoi beni a Ankar, senza capire il motivo dietro questa decisione, ignorando che Ilmaz stava cercando di prepararsi a una possibile fuga con Zuleya. Demir, che aveva fatto pedinare sua moglie, scoprirà che Zuleya ha parlato con Ilmaz riguardo al fatto che entrambi i loro coniugi stanno soffrendo per amore e l'ha invitato a non nuocere a Mujeygan. Infine, Demir capirà di aver perso Zuleya per sempre e avrà un confronto a riguardo con Sevda. Grazie. 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 Grazie.